Luca Balducci è nel progetto di continuità del Presidente Luciano Bartolini il giocatore che ha disputato più stagioni, 5 con la maglia del Real Giovanove e ora si apre questa esperienza a Nereto. Sì, sono contento di riniziare, col Presidente sono 5 anni, sono stati 5 anni belli abbiamo vinto due campionati, tre salvezze quindi per me è stato molto formativo calcisticamente e come persona soprattutto quindi sono contento di tutto quello che è stato ma soprattutto penso al presente ora siamo qui a Nereto e vogliamo fare bene, siamo molto motivati che ho avuto un periodo personalmente difficile, ho avuto un infortunio e quindi ora sono innanzitutto contento di poter stare qui in campo con gli altri ragazzi perché è quello che mi piace fare, stare qui in campo, allenarmi e lavorare. Ecco, si è conclusa la prima settimana di allenamento, quella che inizia oggi è proprio la seconda, le tue prime impressioni di questi primi giorni. Le impressioni sono ottime, te l'ho detto personalmente e io già sono contentissimo di stare in campo e giocare con questi ragazzi quel mister ha delle idee chiare, ci sono molti giovani e penso che tutti quanti possiamo crescere con lui. Per me si apre questa nuova esperienza, sì, del tutto nuova sono 5 anni che sto a Giulianova e da quando sono piccolo che sono lì e per me questa è un'esperienza del tutto nuova e siamo molto felici di iniziare questa nuova avventura con l'Innereto e molto motivati, cerchiamo di dare il massimo e stiamo lavorando secondo me molto bene con il mister lavorando totalmente su concetti nuovi per noi e ci vogliamo sicuramente togliere tante soddisfazioni. Poi ci sono anche altri ragazzi che io conosco che ci stavano da altri anni come Saverio, Cristian, Forcini, Luca, Balducci e il mister Federico, il secondo che lo conosco molto bene, ci ho giocato anche e sicuramente daremo il massimo. Sicuramente è una stagione molto interessante ci sono squadre come il Pineto e il Notaresco che ho visto che sono molto attrezzate e forse anche la San Benedettese come stiamo vedendo tutti è probabile che sia nel nostro girone e noi ce la batteremo sempre con tutti a viso aperto, non abbiamo paura di questo campionato.